Un importante quotidiano sportivo nazionale, il presidente della Sir Safety Gino Sirci ha praticamente annunciato il rinnovo di Aleksandr Atanasiewicz, già annunciato qualche giorno fa in una trasmissione di Umbria TV. Il campione serbo avrebbe firmato per altri due anni, anche se manca ancora l'annuncio ufficiale del club. Firma anche per un altro tassello della Sir, il centrale Marco Podraskanin, anche lui per due anni. Non resterà invece a Perugia Ivan Zaitsev, che sempre secondo quanto ha dichiarato Sirci avrebbe deciso di tornare a giocare nel ruolo di opposto. Il numero uno della Sir ha parlato anche del fortissimo cubano Leon. Oggi siamo un po' più fidociosi, ha praticamente lasciato Kazan e se sceglierà di avere ancora un ingaggio a cui è stato abituato in Russia sceglierà il Giappone, la Corea o la Cina, altrimenti noi siamo in prima fila con un ingaggio che lui sa essere appena inferiore ma con altri aspetti positivi. Intanto domani il big match di campionato con i Block Davids che affronteranno in casa la Lube Civitanova, seconda in classifica. Anche per lo sport è tutto, grazie di essere stati con noi, arrivederci.